e distendetevi sulla schiena e lasciate libere le gambe di lasciare il peso al pavimento lasciate le braccia di sete lungo i fianchi se ne avete voglia chiudete un momento agli occhi osservate la vostra sensazione e sentite il vostro peso e sentite il contatto con il pavimento osservate quali parti della vostra schiena appoggiano, toccano sul pavimento quali parti rimangono sollevate e anche quanto sono sollevate le parti sollevate in particolare provate a sentire quanto spazio avvertite sotto la parte bassa della schiena sotto la curva lombare l'arco della zona lombare e notate anche se vi sembra di avvertire sotto l'arco lombare lo stesso spazio a destra e a sinistra oppure se notate una differenza se volete potete farlo anche infilando le mani sotto e poi osservate anche l'appoggio delle gambe e dal bacino dal lato destro del bacino tutta la gamba destra fino al tallone sentite come appoggia la gamba destra e anche quanto la sentite lunga e poi fate lo stesso tra il lato sinistro dal lato sinistro del bacino al tallone sinistro tutta la lunghezza e il contatto della gamba sinistra e notate se avvertite differenze sia nel modo di appoggiare che nel senso di lunghezza che avete nelle due gambe e poi notate se avvertite differenze tra i due lati tra tutto il lato destro di voi e tutto il lato sinistro e se avvertite differenze che riguardano sia l'appoggio sia la sensazione di lunghezza portate l'attenzione alla vostra testa e osservate dove è appoggiata la vostra testa e in particolare sentite dove è appoggiata rispetto ai due lati se avete la sensazione che sia proprio al centro oppure se avete l'impressione che sia leggermente spostata al di sopra di uno dei due lati un po' più che al di sopra dell'altro e poi rotolatela dolcemente da un lato e dall'altro piano 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 e sentite la qualità di questo movimento fate piano e poco e osservate anche se avvertite differenze tra il movimento di rotazione che fate verso destra e quello che fate verso sinistra poi lasciate la testa al centro piegate le gambe appoggiate le piante dei piedi a terra mettete i piedi in modo che siano paralleli e larghi grossomodo quanto i fianchi e abbastanza vicini al bacino con le caviglie che sono quasi perpendicolari alle ginocchia e soffermatevi un momento a osservare come cambia l'appoggio del bacino e della schiena soffermatevi a osservare come cambia l'appoggio in particolare della parte bassa della vostra schiena sentite se adesso è tutta appoggiata notate se adesso avvertite differenze tra un lato e l'altro della parte bassa della schiena e della schiena in generale oppure no e poi tenendo le gambe piegate tornate a fare qualche rotolamento della testa da un lato e dall'altro pian pianino sentite come lo fate con le gambe piegate e lasciate ancora la testa al centro e senza sollevare la testa da terra facendo scivolare la testa il retro della testa sul tappetino sul cuscino abbassate un pochino il mento avvicinatelo alla gola e poi lo riportate al punto di partenza e lo portate un pochino verso il soffitto e nella direzione opposta a quella della gola quindi muovete il mento nella direzione della gola del bacino del vostro giù e poi muovete il mento nella direzione opposta sempre scivolando con la testa sul tappetino con i capelli sul tappetino o sul cuscino senza mai sollevare e fatelo diverse volte scendete salite fatelo piano 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 e osservate che sensazione avete quanta libertà c'è quanta fluidità c'è in questo movimento ma osservate anche se questo piccolo movimento della testa crea qualche eco, qualche risonanza più in basso del collo se sentite che qualcos'altro si muove oltre la testa e il collo o che c'è un eco, che c'è un po' di risonanza da qualche parte dove le avvertite queste risonanze lasciate la testa al centro e adesso continuando a tenere le gambe piegate spingete leggermente con le piante dei piedi dentro il pavimento consentite al coccige di sollevarsi e consentite alla parte bassa della schiena di appiattirsi ancora di più di appoggiarsi di più sul pavimento e poi lasciate e lo rifate quindi fate soltanto il movimento del bacino indietro verso la testa quello che si chiama di retroversione del bacino appiattite la parte bassa della schiena sollevate leggermente il coccige e poi ritornate al centro diverse volte se vi aiuta spingete un pochino con le piante dei piedi dentro il pavimento altrimenti usate soltanto i muscoli del vostro centro senza aiutarvi con i piedi e osservate bene che cosa accade al mento che cosa accade al collo mentre fate questo movimento e fatelo piccolo e fatelo piano poi fermatevi un attimo distendete un attimo le gambe se vi va se non avete mal di schiena se le potete distendere con comodità prendete un momento di pausa e ora piegatele di nuovo e fate con il vostro bacino il movimento opposto quello che si chiama di antiversione fatelo piano 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 fate rotolare un pochino il bacino nella direzione dei piedi di modo che il coccige e il pube vadano verso i piedi e nella parte bassa della schiena si crei l'arco anche se le gambe sono piegate e poi ritornate al centro e lo rifate quindi il bacino rotola in avanti nella direzione dei piedi la parte bassa della schiena si allontana dal pavimento dal tappetino e poi tornate al centro diverse volte fatelo piano fatelo piccolo soprattutto chi ha mal di schiena questo movimento deve farlo con particolare prudenza con particolare dolcezza piccolo 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 però provate a farlo piccolo ma rallentato ma dettagliato e sentite com'è andare nella direzione dei piedi col vostro bacino com'è inarcare un pochino la colonna e quanto avete l'impressione che questo movimento si trasmetta su lungo la colonna e sentite anche che cosa accade al vostro mento che cosa accade al vostro collo che cosa accade alla vostra testa quando il bacino rotola nella direzione dei piedi quindi fa il movimento che si definisce tecnicamente antiversione lasciate andare distendete le gambe rilassatele un momento e ora piegatele di nuovo e uniamo i due movimenti quindi facciamo il movimento di rotolamento del bacino verso la testa con il coccige che si solleva che va un po' verso il soffitto e la parte bassa della schiena che si avvicina ancora di più al pavimento che si appiattisce poi si ritorna al centro e senza fermarsi al centro si rotola con il bacino nella direzione dei piedi e quindi si permette al coccige di avvicinarsi ai piedi e alla parte bassa della schiena di allontanarsi dal pavimento e poi di nuovo si torna e si fa qualche rotolamento avanti e indietro indietro nella direzione della testa quello che si chiama retroversione e in avanti nella direzione dei piedi e nel movimento che si chiama antiversione si mettono insieme questi due movimenti in un movimento continuo di rotolamento il bacino le ossa del bacino rotolano un pochino in avanti e poi un pochino all'indietro sul tappetino sul pavimento e continuando a fare il movimento fatelo dell'ampiezza che vi risulta comoda fatelo lentamente in modo dettagliato e osservate bene quello che succede alla vostra testa come si spossa la vostra testa sul cuscino come scivolano i vostri capelli dove va il mento quando rotolate il bacino verso la testa e dove va il mento quando rotolate il bacino verso i piedi ora lasciatelo andare distendete le gambe e prendete un momento di pausa e prendete un pochino